Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo video. Oggi non farò proprio un vlog direttamente, come vedete c'è una mappa che ho utilizzato in immagine, quindi sarò un po' raffazzonato, diciamo il video. Cercherò di spiegare come wardare, ha vinto un mio amico che mi ha fatto questa domanda e allora facciamo il video su dove wardare, come wardare, come funziona il wardare. Allora, il video lo presenterò dal punto di vista del support, principalmente perché è quello che warda di più per tutta la mappa, anche se si potrebbe fare dopo un appunto sul jungler. Allora, quando siete in bottom lane all'inizio ci sono molti errori che si fanno durante la fase di warding. Bisogna sempre sapere, ovviamente come vedete, quando siete in bottom lane avete un tribush, e questi due cespugli, e la zona del river, questa qua. Sono tutte zone che in teoria metterci una ward non fa male, ma dove mettere la ward? Allora, se siete qua sotto torre, l'errore classico, quando venite pushati, ovvero quando state, diciamo, non pushando voi la lane ma vi ritrovate sotto torre perché dall'altra parte c'è fase di lane forte, o semplicemente hanno graves tipo che pusha molto facilmente la lane o jinx, dove cosa bisogna fare? Non bisogna wardare da nessuna parte. Perché? L'unica ward che potrebbe forse interessarvi se siete a poca vita è qua. Perché se voi andate a wardare da sotto torre, siete sotto torre, questa zona qua, e andate quindi a mettere la vostra wardicina In questa zona, probabilmente c'è qualcuno dentro, venite uccisi, il vostro carry rimane senza support, e venite massacrati, la torre viene persa, e ciao ciao. Quindi, neanche qua va messa la ward. Se siete sotto torre, a voi non interessa sapere dove sono i nemici, perché siete sotto torre. Il problema viene nella fase di push al massimo. Nella fase di push bisogna stare attenti a sapere se la bottom lane è ancora presente o no. Se la bottom lane non è più presente, si può passare a una successiva ward nelle zone interessanti come questa. Ma solo, se si sa, bisogna sempre guardare la mappa, sempre guardare dove sono le persone del team nemico, perché se non si sa quello, è inutile cercare di andare a mettere le ward. Quando siete da questo lato della mappa, ovvero quella del lato basso, avete un vantaggio nel wardare, diciamo, la fase di Drake. Ovvero, siete come prima, che non avete visione, non avete niente, siete sotto torre. Allora, voi cosa potete fare per sapere se la squadra nemica sta facendo il Drake? Sicuramente non si può assolutamente passare per il river. Guardate che prendo il giallo. Passare per il river. Qua ci può essere qualcuno. Ci può essere qualcuno qua. Sicuramente, per esperienza, vi posso dire che difficilmente troverete qualcuno in questa zona. O in questa zona qua. Probabilmente sono qua loro. Ve li segno con delle belle X. Queste sono le zone più stronze che possono mettervi per farle imboscate. Quindi, il posto più sicuro per andare a cercare di mettere una ward è fare un bel giro safe, passare da dietro e mettere la ward in tutta sicurezza da dietro il fiumiciatolo. Non fatelo se c'è Blitzcrank. Tutte le persone ci muoiono sempre per Blitzcrank o per Trash perché ti tui raggiù con la E. Evitatelo. In quel caso, il Drake è perso. In quel caso, se vedete che lo stanno facendo, poi dopo viene il fatto di... Vabbè, faremo un argomento a parte su quando andare o quando non andare a ingaggiare. Quindi, abbiamo capito già la prima cosa. Non andare a wardare se non ce n'è bisogno. Come wardare in maniera safe, cercando un po' di capire i movimenti dei nemici. Se invece voi state pushando, le ward che vi interessano sono quelle più, per assurdo, non più vicine a voi. Perché se voi guardate qua, in questa zona, qui, e guardate, me ne so, anche qua, e voi siete qua che state pushando in questa zona... Nannaggia, ok? In questa zona qua, vi ritrovate, avete poco tempo di reazione. Vi arrivano i nemici dal lato e vi fanno il mazzo a stelle e strisce. E non potete farci nulla. Quindi, cerchiamo di analizzare un attimo. Come possiamo guardare efficientemente per una buona fase di pushing? Abbiamo detto di non mettere le ward in quelle posizioni, ma dove le andiamo a mettere? In teoria, una ward buona per vedere se il mid arriva. Te la dovrebbe mettere il mid, ma nel caso, potete farlo voi con il support, è qua. In quel caso, vedete se entrano da questa zona, che è la zona classica, diciamo, dove passano sempre i jungler e il mid lane, per andare in bottom lane. Mettere una ward qua è molto efficiente. Dove possiamo mettere, se no, un'altra ward? L'altra ward che possiamo mettere potrebbe essere o nella zona qua del river, o qua, ma sarebbe meglio addirittura dal drake. Doppia funzione. Sapete se stanno facendo il drago, sapete se c'è il jungler che sta arrivando. Avete un po' più di tempo che metterla nel bush vicino alla bottom lane. Quindi riuscite ad andare bene via e riuscite a scappare. Queste sono le ward della prima fase di, diciamo, di laning. Cosa succede se vengono perse le torri? Ad esempio, perdete questa torre qua e questa torre qua. Ecco che la situazione cambia. Perché per gli nemici avete tutta la parte della bottom lane, della giungla, diciamo, della vostra parte di bottom, che viene occupata costantemente. Quindi loro hanno accesso, diciamo, voi avete vision solo fino a questa zona qua. Dopodiché tutta questa zona qua diventa una zona che per voi è, diciamo, bastarda entrarci perché rischiate sempre di morire. Quindi, dove wardare e come wardare? Allora, il discorso è semplice. È vero, bisogna mettere delle ward. Bisogna sapere se il nemico è lì. Ma non si può andare a caso come fanno ogni volta silver e bronzo. Cosa succede? Il tuo team ti dice, metti una ward perché non abbiamo vision. E voi fate, ok, vado a metterla e ci morite. Perché morite? Perché non avete osservato dove sono i nemici in quel momento. Allora, a voi non serve sapere se i nemici sono esattamente in quel momento, in quel cespuglio. Perché se lo fate, cioè, se morite perché l'avete visto, è ovvio che l'avete visto che sono lì, ma non è servito a nulla. Volete sapere se dopo ci andranno, non se esattamente in quel momento sono lì. Quindi, la ward cosa ci serve? Dove bisogna metterle e quando? Allora, bisogna vedere dove sono in quel momento. Mettete che avete quattro della squadra nemica che sono a mid. Probabilmente ne manca solo uno e non è neanche un assassin. Voi potete cercare, se sono a mid, quindi loro sono tutti qua, o qua. Voi andate a mettere una ward magari dal vostro red buff qua. O ancora meglio qua. Adesso metto la wardicina, come iconcina, che carina. Una qua e una qua. Già facendo così potreste sapere più o meno le entrate della giungla. Se voi... Se voi li vedete entrare naturalmente dopo... Adesso facciamo un'ipotesi. Li vedete entrare dal bush della mid... Adesso arrivo, scusate un attimo. Che mi sto perdendo. Li vedete entrare dal bush della mid e non escono più. Allora fate due conti. Probabilmente se non li vedete dopo passare di qua, sono in questo cespuglio qua. Non ci vuole un genio. Se invece li vedete passare di qua e non escono più, non tornano indietro né da questa zona. Probabilmente o sono qua o sono qua. Dopo dovete andare un attimo per ipotesi. Ma almeno sapete che sono nella vostra giungla. Quindi, le world non vanno messe per sapere esattamente in quel momento se sono da red. Soprattutto non ve ne fate niente se in questo momento di andare... Se voi siete sotto torre, stessa situazione della bottom... Voi siete sotto torre. Non ve ne fate niente di sapere se i nemici sono dal vostro red buff. State fermi lì. Pushate la linea e poi come gruppo potete muovervi. È inutile che i support continuino a muoversi da soli e cercare di mettere una world... Quando non vedono i nemici e siete sotto torre perché ci sono i super minion, altre cose, qualcosa che vi sta pushando. Non serve a nulla. Ora, altro esempio. La bottom lane ha un problema quando, ad esempio... Quando siete... scusate la bottom lane. Quando siete nel lato basso della mappa, avete il problema che tipo avete perso le due torri. Magari anche questa qua centrale. Questa qua. E non sapete se i nemici stanno facendo il baron. Allora, i cespugli per cui vi fregheranno ogni volta e ogni volta ci morite perché volete fare la strada corte. E faccio questo bellissimo percorso. Vado dritto per dritto. Face checko questo bellissimo cespuglio mettendoci magari una world. E muoio. Loro non aspettano altro di aspettarvi qua e qua. Sono i due cespugli della morte. Fa volte anche qua, ma difficilmente. Di solito sono sempre questi due. Bisogna ragionare sulle cose che succedono sempre. Quindi, qual è il giro più sicuro per farlo? Ovviamente se hanno vini in quel caso lasciatelo fare perché se ci state mettendo tutto il suo tempo a fare il giro probabilmente l'hanno già fatto. Dipende quando ve ne accorgete. Passate da questa parte. Guardate, se sapete che non le avete visti che non sono andati dal blu, ovviamente. Però è difficile che facciano un'imboscata qua. A volte capita, a volte no. Mettete una world in sicurezza dal blu. Continuate da questa zona. Mettete una world qua dietro. Se non hanno blitzcrank. O loro non hanno vision. Magari con un red trinket sarebbe la cosa più figa. Fate una bella visione qua. Mettete la world lì dietro. E quindi, wardando prima. Questa zona qua. E questa zona qua avete più sicurezza nell'andare a spottare se il team nemico sta facendo il baron senza venire massacrati. Il problema è che, come al solito, quando una persona fa il baron, due cose succedono. Uno è quello di farlo nel momento sbagliato e morirci tutti dal baron. Due, invece, la situazione positiva quando vai dal baron è che due della tua squadra vanno da questo lato. Uno va da questo lato. Due si mettono a farmare i wright. E uno fa i wright e l'altro fa i lupi. Cercate di essere proprio positivi, di dire Voi siete il support, venite con me, si va da questo lato, seguite me, questa zona è sicura, si fa così. Punto. Voi siete i capi. Quando siete i support, voi siete i capi. Siete i capi della mappa. Mettetevelo in testa, dovete coordinare voi il team su dove andare, perché avete più tempo per farlo, non dovete farmare. Cercate di imporvi da questo punto di vista. Ward inutili, paragrafo 3. Le peggiori che vedo sempre fare. Siete sempre in bot qua in basso. Vi fanno questo. Vi fanno questa. Tutte le torri sono giù. Siete in questa zona qua. Magari avete perso pure questo. E l'inebitore. Avete tutti i minion che sono qui con i super minion. Fanno un casino boia. Il support decide. È il momento di wardare qua. O qualsiasi zona qua. Ma cosa ve ne fate? Non potete uscire dalla base. Non riuscite neanche andare a contestare un baron, probabilmente, perché i minion vi faranno la base se andate a farlo. Perché loro non vedono l'ora che voi venite qua. Perché non lo faranno mai il baron. Non si mettono lì a bisticciare con voi, a fare finta di farlo. Andare indietro, fare finta di farlo, andare indietro. Voi starete 7 ore lì e perderete la base. Dopodiché due di voi recalano e fanno il baron. Il risultato è che avete perso tempo, avete perso molta vita della torre. Probabilmente avete perso tante esperienze, tanto gold. Troppo. Lasciate stare. Si deve proteggere la base. Finché l'inibitor non è su, non bisogna uscirne. Questo funziona se anche loro non hanno l'inibitore giù. In quel caso si può cercare di fare tante che diverse. Ma io parlavo dell'esempio classico. Avete l'inibitor giù e loro stanno prendendo obiettivi. Non potete farci probabilmente mai niente. Non dovete soprattutto andare a wardare da soli. Fine. Esempio contrario. Dalla top, quando siete in top lane, avete il problema contrario. Ovvero il baron è più facile da wardare e il drake è più difficile da wardare. Dove bisogna andare a wardare? Quando ad esempio dal baron avete perso questa torre. Questa torre. E siete in questa situazione. Allora, probabilmente i nemici vogliono farvi delle imboscate. Se vogliono farvi il baron non stanno andando a farlo, ma vi vogliono fare l'imboscata per uccidervi e poi successivamente farlo. Gli cespugli in cui si fanno di solito l'imboscata è questo qua e questo qua. Quindi, come fate per andare a wardare il baron senza venire massacrati ogni volta? Il meglio sarebbe passare da questa zona qua, fare questo cespuglio magari wardandolo e poi successivamente si può mettere una ward dietro. Assolutamente il discorso vale sempre. Se c'è blitzcrank state attenti perché venite sempre grabbati. Quindi la ward la mettete qua e qua. Se vedete che non sono lì è inutile, ed è inutile, andare a cercare di mettere una ward qua, successivamente per dire chissà se i nemici sono lì, sono al 99% lì e se voi mettete la ward al 99% siete morti un secondo dopo. Non fatelo, non serve a niente, non serve, punto. Quindi abbiamo visto come cercare di andare a wardare il baron in un po' di sicurezza. Andiamo a vedere un po' come wardare invece il drake se siete in top. Allora, il drake ha delle zone anche lui rischiose, vale lo stesso esempio dell'altra zona quando andavamo a wardare il baron. Ovvero il cespuglio che non dovreste mai andare a festecare è questo qua e questo qua. Quali sono le zone sicure quindi per andare a cercare di mettere le ward si deve passare per questa zona qua, tutti belli insieme. Si può cercare di andare in questo cespuglio se si ha già una ward a nostra conoscenza lì, se no, no. Quindi andremo a mettere una ward qua, passando da questa zona qua, magari prima wardando qua. Queste sono le ward principali del gioco e oltre a queste qua che vi ho spiegato si potrebbe fare una... Adesso facciamo una breve. Adesso. Su dove potete metterle pink? Prendetele come delle pink, queste. Le pink più utili sono questa zona qua. Pink altre utili potrebbero essere dal drake dentro. Quando volete farlo non mettetela in fase di lane. Voi siete qua bottom, andate a mettere una pink qua. Togliete probabilmente la loro e la vostra pink viene one shotata subito, non serve a nulla. Se siete a mid potrebbe servirvi una pink qua per vedere se i nemici hanno bisogno della vostra giungla. Potrebbe servirvi una pink oppure in questo cespuglio, che è lo stato opposto di questo qua. Potrebbe servirvi una pink qua nel caso state facendo il baron, ma sempre il solito discorso. Non mettetela dalla top per vedere cosa, non si sa. Possono servire quelle dei tribush, ovvero siete bottom lane. Mettete una pink lì, venite pushati, il vostro jungler sa che sicuramente qua non ci sono world. Può fare un gang sicuro, perché ora che arriva da questa zona qua, che adesso andiamo a tratteggiare. Loro fanno poco tempo, fanno veramente fatica a sapere che sta arrivando in tempo e potete fare un ingaggio veloce e spappolarli. Dove possono servire anche le pink? Allora, difficilmente vi serviranno nei cespugli delle lane. Motivazione, essendo nelle lane molto veloce, a meno che voi non state, diciamo, avete pushato e quindi vi ritrovate in questa situazione qua. Ovvero voi siete in questa zona qua, state pushando la torre in questa situazione e quindi volete fare arrivare il jungler qua per fare, diciamo, un'imboscata verso la bottom lane. Non vi serve a niente. È molto più comodo averlo quasi. Oh, scusate. Averla qua. Quindi, con queste direi che vi ho detto più o meno tutta la fase di world, dove vanno messe le world, come andarle a mettere, quando non metterle, assolutamente. Spero di esservi utile. Se vi è piaciuto il video, spero di farlo meglio la prossima volta, iscrivetevi. Ciao a tutti.